no ragazzi questo è il nostro posto andiamo a comprare le salsicce alla coppia domenica dei mesi e che ore sono le 11 e qui la gente mangia la grigliata le 11.02 per precisione minchia ma non è possibile mangiare all'11 la grigliata e dove stiamo andando ora ai totem